un bel pezzo di mina quando tu mi spiavi in cima a un batticuolo la vecchia mina è inconfondibile PDU 5030 monastere dentro è molto bello come tutti questi ingegneri di dischi guardate che roba secondo noi è una foto elaborata col computer come non si poteva fare in quegli anni lì doveva essere ancora degli anni 70 questo disco facciata nessuno al mondo domingo io tra di voi l'uomo della sabbia ero io eri tu era ieri ad agio facciata il mio nemico è ieri insieme una donna e una storia che meraviglia mi guardano questa cosa chiamata amore poi qui si apre così tipo tesoretto di natale che viene e viene fuori il disco PDU qui togliamolo dal cielo che ci sta ci sta come i broccoli a merenda eccolo qui eccolo qui PDU 5030 mina orchestra di Augusta Martelli quando tu mi spiavi in cima a un batticuolo madre in Italy facciata 1970 ha un po' di anni sto questo disco bene grazie